Gli angioletti di Natale, tutti voi li conoscete, sapete anche i loro nomi, altezza, peso e cognomi. Tutti voi uno ne avete, volete sapere chi è? Un po' di pazienza e lo saprete! Gli angioletti di Natale, han sempre voglia di giocare, a volte sono birichini, ma si sa, sono bambini. Gli angioletti di Natale, sono allegri anche sinceri, hanno bisogno di parlare, e di chi li sa ascoltare. Gli angioletti di Natale, a volte fanno i capriccetti, ma poi danno tanto amore, quello vero che riscalda il cuore. Gli angioletti di Natale, sono ancora molto piccini, ma hanno un cuore grande, grande, dove per tutti un posto c'è. Ora avrete indovinato, gli angioletti siamo noi, e con gioia noi cantiamo, Buon Natale a tutti voi. Ora avrete indovinato, gli angioletti siamo noi, e con gioia noi cantiamo, Buon Natale a tutti voi. Buon Natale a tutti voi. Buon Natale a tutti voi. Buon Natale a tutti voi.